La nuova frontiera delle frodi alimentari è rappresentata dalla irregolarità sulle etichettature. Emerge questo dai controlli effettuati dal nucleo antifrodi alimentari dei carabinieri. False o ingannevoli indicazioni sull'origine dei prodotti compaiono ovunque, con tanto di indebito utilizzo dei marchi DOP, IGP, STG e biologico. Si è così intensificata nelle ultime settimane l'attività di vigilanza degli organi di controllo, incentrata proprio sulle corrette indicazioni in etichetta e nelle componenti di packaging, cioè di imballaggio, affinché gli operatori del settore, in specie nella piccola e media distribuzione, e i consumatori non rimangano vittime di pratiche commerciali ingannevoli. Un fenomeno comunque molto radicato e da gennaio ad oggi sono oltre 2 milioni le etichette e le componenti sottoposte a sequestro, mentre il valore delle frodi accertate supera i 12 milioni. Tra le operazioni degli ultimi giorni il sequestro in provincia di Roma di tisane biologiche a base di tulzi, basilico indiano ed integratori alimentari commercializzati come biologici. Individuato anche un irregolare circuito di commercializzazione di olio extravergine d'oliva e di carni con marchi DOP e IGP falsi. In questo ambito, in provincia di Salerno, sequestrate 9 tonnellate di latte vaccino e bufalino prive della tracciabilità e in violazione delle norme igienico-sanitarie. I controlli proseguono in tutta Italia. Le nuove procedure di sequestro, poste in essere dai nuclei antifrodi, prevedono che quando non si tratti di condotte fraudolente più gravi, perseguibili penalmente, le commercializzazioni vengano sospese con la possibilità, verificati i requisiti di qualità del prodotto, di essere inserite solo successivamente in commercio con le etichette corrette. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.